Salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi continueremo a giocare a Supermarket Simulator allora ragazzi non porto Supermarket Simulator da un bel po di tempo ora vi faccio vedere hanno praticamente aggiornato poco poco il gioco alla versione 202.1.2 io ovviamente ho lasciato qualche mod ho lasciato cambiato l'entrata c'è ancora la fase tutto poi c'è anche il computer portatile ho messo le mattonelle e un po di tutto ho messo le casse a proposito di casse poi ho messo no 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 Grazie a tutti. 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 L'hanno mirato molto il gioco, onestamente. Noi intanto andiamo qua, aumentiamo il tempo così, vediamo che la cassa sta anche funzionando. Ovviamente le luci si accendono in automatico, ragazzi. Aspetta, vai. Venite qua, venite, dai, oddio, quante cose hai preso, madonna. Anche con i contanti, allora devo darti 425, oddio, 425, dai, avanti il prossimo. Vai, avanti il prossimo. Anche se stavo pensando, ragazzi, di... avanti il prossimo. Anche con i contanti, io ho messo in postato frigorifero. tutto, tutto, tutte le cose in frigo, devo finire di piastrellare, ragazzi, sinceramente. Devo fare questo nero, poi devo sistemare le pareti, devo fare un bel po' di cose. Allora, riguardiamo qua un attimino, lo zucchero velo si sta finendo, eh. Ho segnato veramente una cifra, ragazzi, direi. Adotti non trovati uno, madonna, clienti totali 54, ma lo zucchero di mela è aumentato, allora, succo di mela è aumentato, 375, mettiamolo, poi, cos'altro? 13, non bastano, i dolci sono aumentati, mettiamo qui, ah, 5 e 13, i dolci ci stagano, aumenti, no? E c'è qualcos'altro che è aumentata pure, però non mi sto ricordando se è aumentata o abbassata, no, vabbè, sono state cose, allora, vediamo un po', oddio, vabbè, devo prendere il latte, allora, devo rifare di nuovo il refill, allora, innanzitutto i cereali, che si sono praticamente finiti, prendiamo due di pane, due di questi, due di questi, la pasta ne vendiamo tre, poi, a bottiglia ne vendiamo due, anche se mi sa che già c'è, già c'è, riso, ne prendiamo due, anche se, secondo me, secondo me, tutta sta roba, ma facciamo una cosa, ragazzi, non esageriamo con gli acquisti, fare direttamente una cosa, apretamento, io direi di prendere, praticamente, un piccolo scaffale, quelli grandi, voglio aumentare, però, ne vendiamo due, e sono 500 euro, ci sta, lo mettiamo praticamente, ok, poi, prendiamo un altro, che se lo potevamo mettiamo un po' direttamente, sì, no, io questi voglio mettere, il brigare da metterlo tutto a posto, o taglia, dai, no, eh, comaggio, metto io, comaggio, metto io, comaggio, metto io, comaggio, 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 dove sta il comaggio, no, vabbè, comaggio ciò, comaggio, comaggio, mettiamo qui qua, yogurt, yogurt ciò, vabbè ragazzi, giustamente, adesso mi devo ricordare tutti dove stanno tutte le cose, quindi diventa un po' problema, ok, qua c'è un altro yogurt, altro yogurt, si, devo aiutare, perché, sennò, veramente, questi, non, non si ciò, 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 ciò e stanno mettendo, poi vediamo un po', sbloccato, hanno finito quasi, cublo, sugar, si devo un po' sbloccare l'altra licenza ragazzi, o la sblocchiamo un'altra licenza, vediamo quanto mi costa soprattutto, il miele mi sa che era finito no? si posso tranquillamente mettere altre cose, spaghetti spaghetti, diciamo che è più o meno, ora guardiamo un attimo come siamo messi a refill, adesso che ho messo tutto, il pane lo sto finendo, quindi il pane lo sto finendo, l'olio ne vendiamo due, quattro di pasta, marina ne vendiamo due, olio ne vendiamo due, due, poi poi poi, poi poi, i dolci ne vendiamo altri due, questi ne vendiamo altri tre, altri tre, eh, il parmigiano si sta tenendo, basta, ora, è un'altra licenza no? Quanto cavolo mi serve? Licenza, acquista, burro, cereali, pollo, patatine fritte, pizza mista, sacchietto di patate, allora, licenza 13, licenza fatture, paghiamo le prime fatture, vediamo quanto mi rimane, 1138, allora, il sacco di patate lo voglio mettere praticamente, mettiamo qui qua, quindi, mercato, devo prendere anche sempre il frigorifero, se, se, per esempio, il frigorifero doppio, freezer triplo, eh, mi costa già una ragassa, aspettate ragazzi, allora, freezer triplo, ok, 5,50, già se ne vanno, diciamo che, e qua devo mettere un tipo, però, comunque non mi piace come sta, no, ma che cazzo, benissimo, bella sta cosa, che figata, hanno cambiato poco il, si, qua ce ne metterò in altro frigorifero, poi, ovviamente devo aprire il negozio adesso, si, e già non c'è la forza, no, si, eh, mo te voglio, vabbè, fate voi qua, siete voi, gli esperti di materia, apriamo e facciamoci un'altra giornata, senta, ma che ti prende, donna santa, quante cose si ha preso questo, forse, 46 e 20, e 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 vediamo se qualcuno ci lamenta stiamo guadagnando un pozzo di soldi, io non posso immaginare con le altre licenze ragazzi, quanto riuscirò guadagnare il latte costa troppo, ma cosa dice? eh beh eh, ho fatto un bel po' di soldi, e anche questo, però ti ho trovato troppo costosi, 5, vabbè, va bene, ah, a me sta cosa mi sta su cazzo, ragazzi, che devo ogni volta, porca miseria, che abbassare i prezzi, porca miseria, che palle, vabbè, vediamo, 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 allora, l'acqua in bottiglia c'è abbassata, ehm ehm 2 78 poi, 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 vediamo cosa si è abbassato altro burro d'arachidi, eh, i burro d'arachidi dovrebbero stare qui 4,90 5 euro pur da mangiare qualcos'altro, però il succo di mela ha aumentato il succo di mela ha aumentato il succo di mela ha aumentato ma ma io non vedo altro che comunque le altre cose, diciamo che ancora ci sono tutte anche se il pane vabbè, comunque posso prendere tranquillamente, ehm prendiamo gestione, licenza, prendere la licenza tranquillamente quindi, quindi, andiamo sui prodotti andiamo sui ultimi prodotti, allora burro 2 di burro 2 di cereali 3 di pollo oddio oddio 3 di patatine 3 657 vai mettiamo da pollo vai buttiamo questo io spero che me ne metta di sopra spero ah no vabbè li mettiamo qua pollo o opla scusate devo prendere devo prendere patate 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 questi già andranno messi poi lo sistemo a lui bene pane lo sistemo a lui ecco ecco pizza mista dai solo questa eh no non posso vendere il pollo sì roba noci 9 e 32 9 e 38 qua facciamo un profitto esiguo 5 5 5 20 la mettiamo qui cosa c'è altro eh questi li devo mettere lì però non ci cacciano lì mettiamo qui qua patatina vai vabbè devo fare per forza l'altra licenza ragazzi io potrei mettereci un altro compattimento però altra patatina altra patatina altra pizza altra pizza va bene va bene va bene allora ragazzi allora ragazzi io direi che con questo video ci possiamo anche salutare qui ma si dai diciamo che va bene così abbiamo bloccato le altre licenze con il nuovo aggiornamento ve l'ho fatto vedere poi praticamente vi faccio vedere altre cose hanno messo oltre a questo possiamo fare sempre i prestiti come sempre poi hanno messo praticamente il magazzino possono espanderci con il magazzino hanno messo questo modifica negozio modifica entrata cambio entrata io ho cambiata insomma ragazzi i ragionamenti che hanno fatto sono questi non hanno fatto di questo comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto come sempre ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale lasciate un bel like un saluto a tutti d'arte ciao ragazzi ai prossimi video ciao ciao